10 secondi, occhio al semafono 5, 4, 3, 2, 1 Vai, appoggio sinistro, per destra, 3 più più vai 20 3 più più eh, 20 Sinistra, 3 più vai, 3 più vai 50, tieni centro, destra, 5 lunga 20 Attenzione, in posta destra, per stacca dentro, sinistra, 3 più vai 3 più vai Appoggio destro, molla, 20 In destra, 5 più più vai 5 più più vai, 50 Destra, 3 più tieni In sinistra, 2 più vai, salta 20 Destra, 4 vai, molla In destra, 3 vai 3 vai Per appoggio sinistro vai, 50 In posta in ritardo, dopo la casa, sinistra, 2 più più 2 più più, per Attenzione, sacrifica Destra, 4, in inversione sinistra Destra, 4, in inversione sinistra Scende destra, 100 In fibio destro, in fibio destro, sporco 200 a vista Destra, 4 mossa, meglio di 3 Destra, 4 mossa In Attenzione, sinistra, 3, in interno In inversione destra In inversione destra Sinistra e destra 50 Destra, 4 più vai 50 Sinistra, 4 più vai 50 Con dossetto In attenzione, destra, 3 più 3 più 50 Shigami con ingresso a destra 50 Destra, 3 più tieni In attenzione Scende, su tosto dritto Scende, su tosto dritto 50 Sinistra, 3 buona 3 buona Per Destra, 4 più lunga 4 più lunga Per appoggio sinistro vai Attenzione alle frasche In sinistra, 3 meno Negativa, corta Ne esagera 50 mossi A gancia, destra, 3 meno Subito sinistra, 2 più 3 meno Subito sinistra, 2 più 6 cric 50 Su tosto dritto Palo, destra, 3 più Rotta sporca 50 Al palo Sinistra, 2 meno vai 2 meno vai In destra, 2 più Taglia 10 Vio sinistro 50 Rotti i destri 20 Appoggio sinistro Sporco Per Appoggio destro Taglia e tieni 50 mossi Appoggio sinistro Vai 100 mossi 100 mossi Appoggio sinistro E destro Stacca Sinistra, 2 più Sale e taglia Sale e taglia Meglio di 5 Per tornante destro Largo 50 Sinistri Pieni In ganna Dosso dritto In Destra, 4 Lunga taglia 4 Lunga taglia In sinistra, 4 meno taglia In Appoggio destro Appoggio destro Su Vio sinistro Occhio alle gomme Esci 100 Attenzione Poco dopo Destra, 2 meno 2 meno Per Sinistra, 2 Molla apre Per Appoggio sinistro Vai 20 Tieni Sinistra, 4 Tieni la sinistra In destra, 3 Un po' scivolicchia Destra, 3 10 Destra, 2 più Che sporco Appoggio sinistro Pieno Lunghissimo Raccorda 50 Tritti Tieni la sinistra 4 in Destra, 3 più Più salta 3 più Più 100 Shikan Con ingresso a sinistra Mi raccomando Per l'uscita Sgomma? No Non è uscito troppo tardi Ritarda poco Sinistra, 2 più Più gira Per In posta e ritarda Destra, 3 Chiude, 2 Dopo vai 50 Tardi poco Sinistra, 3 meno In Destra, 3 più Doppia 3 più Doppia Molla Salta e taglia Taglia alla fine 50 Sinistra, 3 più Vai 50 50 In posta e ritarda Destra, 2 più 2 più Doppia Secondo taglia 50 Sinistra, 4 più più Piena 100 Sinistra, 4 5 e 16 Bout Bout Voi Bout Bout Sve Bout Bout Grazie a tutti.